I nostri inglesi, Maupassant. Sul sedile imbottito dello scompartimento c'era un quadernetto, rilegato. L'ho presi e le persi, era un diario di viaggio, dimenticato da un viaggiatore. Ne copio qui le ultime pagine. Primo febbraio, Mentone, capitale dei tisici, celebre per questi tubercoli polmonari, totalmente diversi da quelli della patata, che vive e prospera nella terra per nutrire e ingrassare l'uomo, quelli polmonari, vivono e prosperano nell'uomo per nutrire e ingrassare la terra. Un medico di qui mi ha fornito, da quell'uomo simpatico e colto che è, questa definizione scientifica. Cerco un albergo, mi viene consigliato il Grand Hotel di Russia, di Germania, d'Inghilterra e dei Paesi Bassi. Rendo omaggio all'intelligenza cosmopolita del proprietario e mi sistemo in questa specie d'ospedale, che da quanto è grande sembra vuoto. Poi faccio un giretto nella città, graziosa e bene esposta, alle falde d'un monte maestoso. Cercarne il nome sulle guide. Incontro persone che sembrano ammalate, condotte a spasso da altre persone che sembrano annoiate. Qui si ritrovano le sciarpe dette passamontagne, avviso rivolto ai naturalisti preoccupati per la loro scomparsa. Le sei. Ritorno in albergo per la cena. Le tavole sono apparecchiate in un salone che dovrebbe contenere 300 commensali e ne ospita esattamente 22. Gli ospiti entrano uno dopo l'altro. Per prima un inglese, alto magro ben barbato, con una finanziera troppo lunga e attillata ai fianchi, le cui maniche imprigionano le braccia mingerline di questo signore come un fodero di seta nera avvolge un ombrello. Questo vestito, che ricorda l'uniforme borghese dei capitani in ritiro, o quella degli invalidi, con un non so che della sottana dei preti, ha sul davanti una fila di bottoni, ricoperti di panno nero come il loro possessore, e vicini gli uni agli altri come un battaglione di onischi. La fila di occhielli, alato dei bottoni, sembra aspettarli e suggerisce pensieri sconvenienti. Anche il panciotto viene chiuso con lo stesso sistema. Chi indossa un abito simile non è sicuramente un pazzerellone. L'inglese mi saluta con un cenno del capo. Ricambio la cortesia. Secondo ingresso, tre signore, inglesi tutte e tre. Una madre con due figliuole. Ognuna di loro ha in testa una specie di uovo, alla neve. Il che francamente mi stupisce. Le figlie sono vecchiotte quanto la madre. La madre è vecchiotta come le figlie. Tutte e tre sono esili, alte, piatte, lente, rigide. Hanno denti sporgenti per incutere terrore agli uomini e ai cibi. Entrano altri clienti, tutti inglesi. Soltanto uno di loro è paffuto e col volto roseo, ornato da favoriti bianchi. Tutte le donne, sono quattordici, hanno in testa un uovo alla neve. Mi rendo conto ora che questo copricapo pietanza è fatto in pizzo bianco di tul molto leggero. Non ho capito bene. Forse non è inzuccherato. E d'altra parte, tutte queste signore hanno l'aspetto di legumi sott'aceto, quantunque tra loro ci siano cinque ragazze un po' meno brutte, ma piatte, senza speranze visibili. Penso ai versi di Bouillet. Che importa la magrezza del tuo seno, mia fanciulla amata? Si è più vicino al cuor se il seno è piatto. E a me par di vedere, tra l'ossa tue, si come un merlo in gabbia, l'amor che sogna, ritto su una zampa. Due signori, più giovani del primo che è entrato, sono anche loro compressi in finanziere sacerdotali. Sono preti laici. Hanno mogli e figli e li chiamano pastori. Il loro aspetto è più pulito, più serio, ma meno cordiale di quello dei nostri preti. Io non darei tuttavia una grossa botte di questi per un barire di quelli. Ognuno ha i suoi gusti. Appena i commensali sono tutti presenti, il pastore capo prende la parola e pronuncia in inglese una sorta di benedicite, interminabile, che tutti ascoltano con la faccia compunta. Dopo questa consacrazione non voluta del mio cibo al Dio di Albione, ognuno comincia a assorbire la minestra. Un silenzio solenne regna nel salone, un silenzio che non deve essere normale. Suppongo che la mia presenza non sia gradita a questa colonia, in cui fino ad oggi non sarà insinuata alcuna pecora impura. Le donne, soprattutto, hanno un atteggiamento sostenuto e ostile, come se avessero paura di lasciar cadere nei piatti le loro scuffie di chiara d'uovo montata. Ma il capopastore sussurra qualche parola al suo vice, che gli siede accanto. Poiché ho la disgrazia di masticare un po' d'inglese, noto con stupore che i due riprendono una conversazione interrotta prima di pranzo, la quale ha per tema i testi dei profeti. Tutti ascoltano, con raccoglimento, e così mi nutrono ancora, senza che l'abbia richiesto, di citazioni incredibili. Io verserò acqua per l'assetato, dice Isaia. Non lo sapevo, così come ignoravo tutte le verità enunciate da Geremia, Malachia, Ezechiele, Elia e... idiozia. Quelle semplici verità mi entrano nelle orecchie come mosche e mi ronzano nella testa. Colui che ha fame chieda di mangiare. L'aria è degli uccelli, così come il mare dei pesci. Il fico produce fichi e la palma d'atteri. Chi non ascolta non riterrà il sapere. Quanto più grande e più profondo è il nostro Henri Monnier, gli fa uscire dalla bocca di un solo uomo, quella dell'immortale Prudhomme, più verità lampanti di quante ne diffusero i profeti tutti insieme. Prudhomme esclama davanti al mare. Com'è bello l'oceano! Ma quanta terra sprecata! E formula pure l'eterna politica del mondo. Questa sciabola è il più bel dono della mia vita. Me ne saprò servire per difendere il potere che me l'ha offerta e, se sarà necessario, per combatterlo. Se avessi l'onore di essere presentato a questi inglesi, provocherai di certo la loro meraviglia con le citazioni scelte del nostro profeta nazionale. Al termine della cena si va in salotto. Mi siedo da solo in un angoletto. La tribù britannica sembra ordire una cospirazione nella parte opposta del vasto ambiente. A un tratto una signora si avvicina al pianoforte. Penso, eh, un po' di musica. Meno male! La signora apre lo strumento, si cede, ed ecco che l'attornia tutta la colonia, compatta come un battaglione, le donne avanti e gli uomini dietro. Canteranno il coro di un'opera? Il pastore capo, divenuto maestro del coro, alza una mano, l'abbassa e un clamore inqualificabile, orrendo, prorompe da quelle bocche che intonano un cantico. Le donne strillano, gli uomini mugiscono, i vetri delle finestre tintinnano, il cane dell'albergo si mette ad abbaiare nel cortile e un altro gli risponde da una camera. Sono scappato irritato, furibondo. Ho fatto un altro giro per la città. Non ho trovato né un teatro né una casa da gioco, né alcun altro luogo di svago. Sono dovuto tornare all'albergo. Gli inglesi cantavano ancora. Andai a letto, continuavano a cantare. Fino a mezzanotte cantarono le lodi del Signore con le voci più stonate, più stridenti e più antipatiche che avessi udito in vita mia. E allora io, reso folle da quell'orrendo spirito di imitazione che in altri tempi travolgeva tutto un popolo in una danza macabra, canticchiavo sotto le coperte. Se il Signore d'Albione, di cui cantano le glorie, giù nel cupo saloncino è stonato come loro, se a lui piace in questo modo dei fedeli la canzone e la lagna musicale, la bruttezza delle facce, condoglianze a quel Signore. E quando finalmente mi riuscì di dormire, ebbi incubi orrendi. Vidi i profeti a cavalcioni dei pastori che mangiavano uova alla neve servite su teschi. 2 febbraio Appena alzato, chiedo all'albergatore se i barberi che hanno invaso l'albergo ripetono l'atroce concerto tutti i giorni. Lui sorride e risponde No, Signore, ieri era domenica e come certo saprete, la domenica è per loro un giorno sacro. E allora gli rispondo in versetti, canticchiati. Se è nient'altro sacro per quei pastori, non il mangiare né il conversare né il giusto sonno dei viaggiatori. Non ci rimane che scappar via col primo treno se ciò continua. E buonanotte al grande albergo. Un po' sorpreso, l'albergatore mi promette che farà qualche osservazione ai suoi ospiti. In giornata, fatta bellissima passeggiata in montagna. All'ora di cena assisto a un benedicite identico a quello della sera precedente. Poi vado nel salone. E ora, che faranno? Per un'ora non fanno niente. All'improvviso la stessa signora che accompagnava i cantici la pianoforte lo apre, mentre io tremo dal terrore. E lei si mette a suonare un waltzer. Le signorine cominciano a ballare. Per una vecchia abitudine il pastore batte il tempo sulle ginocchia. Gli altri inglesi invitano le loro mogli e le uova alla neve girano, girano. Meglio questo dei cantici e dopo il waltzer una quadriglia e una polca. Nessuno mi ha presentato e allora rimango quieto nel mio cantuccio. Tre febbraio. Altra bella passeggiata. Al vecchio castellar. Interessanti rovina in montagna. Su ogni picco c'è qualche rudere di vecchie fortezze. Quei resti di fortirizzi sono molto pittoreschi in quel caos di pietre sovrastato dalle Alpi innevate. Vedi la guida. Questa zona è molto interessante. Durante la cena mi presento da solo come fanno i francesi alla mia vicina di tavola. Lei nemmeno mi risponde. Cortesia britannica. Nella serata ballo degli inglesi. Quattro febbraio. Escursione a Monaco. Vedi le guide. Alla sera ballo degli inglesi a cui assisto come un appestato solitario. Cinque febbraio. Escursione a Sanremo. Vedi le guide. Alla sera ballo inglese. Continua la mia quarantena. Sei febbraio. Escursione a Nizza. Vedi le guide. Alla sera ballo inglese. Vado a dormire. Sette febbraio. Escursione a Cannes. Vedi le guide. Alla sera ballo inglese. Prendo il tè nel mio angolino. Otto febbraio. Domenica. Grande rivincita. Non aspettavo che la ripetizione del brutto scherzo fatto da quegli sciagurati. Avevano ripreso l'aria con punta e si preparavano a urlacchiare i loro cantici. ma io prima di cena ero entrato nel salone mi ero messo in tasca la chiave del pianoforte e avevo detto al cameriere di servizio al bureau se i signori inglesi chiederanno la chiave del pianoforte risponderete che l'ho presa io e li pregherete di rivolgersi a me. Durante la cena discussione su alcuni punti controversi delle scritture spiegazione di testi chiarificazioni delle genealogie di personaggi della Bibbia. Poi passiamo nel salone e la solita signora va al pianoforte. Stupore. Gli uomini si consultano. La tribù pare costernata. Sembra che le uova alla neve siano sul punto di volar via. Finalmente il pastore capo si distacca dal gruppo esce e rientra quasi subito. Confabulano. Mi guardano tutti con occhi cispigliosi. Poi tre pastori vengono verso di me in ordine gerarchico. Quali ambasciatori. Sono quasi maestosi. Si inchinano io mi alzo. Il più anziano prende la parola. Signore mi avere detto avere voi chiave pianoforte le signore vorrebbero avere lei per cantare cantico. Rispondo signor pastore comprendo perfettamente il desiderio del signore ma non posso accontentarle. Voi siete un uomo di religione e io pure signore e i miei principi di certo più rigidi dei vostri mi impongono di impedire la profanazione a cui voi vi abbandonate. Non posso ammettere che per cantare la gloria di Dio vi serviate di uno strumento che per tutta la settimana è stato usato per i balli delle signorine. da noi non si danno balli pubblici nelle chiese e i nostri organi nostri impellano quadriglie. L'uso che fate di questo pianoforte mi ha indignato vi prego di riferire al signore la mia risposta. Sbalorditi i tre pastori battono in ritirata le signore sono basite e la tribù si mette a cantare senza pianoforte. 9 febbraio mezzogiorno l'albergatore viene a pregarmi di andarmene. Sono cacciato dall'albergo a richiesta generale degli inglesi. Incontro i tre pastori che stando alle apparenze stanno aspettando che io vado via. Mi avvicino a loro senza esitare e li saluto. Poi dico signori voi siete molto esperti nella interpretazione delle scritture. Ho studiato anch'io la questione di cui vi state occupando. ho anche una discreta conoscenza dell'antica lingua ebraica. Ora vorrei sottoporvi un caso che turba molto la mia coscienza di cattolico. L'incesto da voi è considerato come reato abominevole non è vero e la Bibbia ci fornisce un esempio davvero preoccupante per la fede. Lot mentre fuggiva da Sodoma fu sedotto come ben sapete dalle sue due figlie ed essendo rimasto vedovo in quanto la moglie era stata mutata in statua di sale morì. Da quel doppio esecrando un cesto nacquero Ammon e Moab che furono poi capostipiti di due grandi popoli gli Ammoniti e i Moabiti Erut la mietitrice che svegliò Boz addormentato per renderlo padre fu una Moabita infatti il cattolico ha detto Erut la Moabita venne a stendersi ai piedi di Boz nudo il seno sperando chissà quale divino raggio ignoto nella luce improvvisa dell'atteso risveglio il raggio ignoto fece nascere Obed che fu l'avo di David Ora nostro Signore Gesù Cristo non fu un discendente di David i tre pastori non rispogero e si guardarono costernati io continuai mi direte che vi sto parlando della genealogia di Giuseppe sposo legittimo ma superfluo di Maria madre di Gesù ora Giuseppe come sanno tutti fu completamente estraneo alla nascita di suo figlio quindi anche se lo era Giuseppe l'uomo Dio non può essere considerato come discendente da un'unione incestuosa ve lo concedo ma aggiungerò altre due considerazioni la prima è che essendo cugini Maria e Giuseppe dovevano per forza avere la stessa origine la seconda osservazione è che è scandaloso farci leggere dieci pagine di genealogia senza nessuna utilità ci lo coriamo gli occhi per sapere che A generò B e che a sua volta generò C e che generò D e che generò E e che generò F e quando quest'interminabile tiritera sta per farci impazzire arriviamo all'ultimo che non genera un bel niente questo signori miei è il colmo della mistificazione a questo punto i tre pastori mi voltarono le spalle all'improvviso come se fossero state un uomo solo e scapparono le due prendo il treno per Nizza il diario finiva qui sebbene queste note rivelino da parte del loro autore un estremo cattivo gusto uno spirito di bassa lega e molta volgarità d'animo ho pensato che possa servire a mettere in guardia i viaggiatori contro il grave pericolo dei turisti inglesi devo aggiungere che esistono anche inglesi simpatici e che ne conosco molti ma in generale non sono miei vicini di albergo un po'